Ebbene si ragazzi, Tsuzuki ne ha combinata un'altra delle sue. Oh cari ragazzi, bentrovati e bentornati sul canale. Video di oggi! E' uscita la nuova patch su Captain Tsubasa Rise of New Champions, la 1.33 e nonostante un po' di raffreddore e questa voce assolutamente cavernosa io sono qui a raccontarvi tutto, ma proprio tutto, sulla nuova patch e sul nuovo aggiornamento. Molti di voi sono già a conoscenza delle novità perché hanno seguito la live su Twitch alle 3.30 del mattino del giorno di rilascio e hanno potuto godere in diretta delle mie reazioni. Per tutti quelli che non hanno ancora avuto modo di scoprire cosa contiene l'ultimo aggiornamento, io sono qua apposta. Prima di partire con qualsiasi conclusione, perché so che molti di voi sono belli frizzanti su questo argomento, andiamo con ordine. In questo video voglio raccontarvi cosa contiene la patch dal punto di vista degli aggiornamenti, dal punto di vista delle novità, delle sistemazioni. Vi darò poi una mia chiave di lettura su questi contenuti e su che feedback stanno dando al gioco, che cambiamenti stiamo misurando al gioco. E nella parte finale del video vi darò le mie impressioni sul futuro di Rise of New Champions dopo questa patch e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane e mesi. Partiamo dall'inizio, partiamo con la lettura nuda e cruda delle note dell'aggiornamento che trovate nel menu principale del gioco, pigiando il tasto triangolo. Sono stati implementati i seguenti aggiornamenti. Nuovi oggetti nel negozio medaglie capitano, nuovi oggetti allenamento nel negozio appunto, non fateveli sfuggire, tra poco li andiamo a vedere. I nuovi oggetti allenamento non appariranno nei pacchetti di carte, i nuovi oggetti potrebbero essere distribuiti come ricompensi in eventi futuri. Questo vuol dire che possiamo solo comprarli con le monete capitano oppure che ci verranno donati come bonus login, ma per il momento quello è l'unico modo per recuperarli. Le andiamo a vedere tra un attimo quando facciamo un ragionamento sull'apporto che questi oggetti daranno al gioco da qui in avanti. Il secondo cambiamento riguarda le modifiche alle informazioni visualizzate. Per ridurre i tempi di caricamento le seguenti informazioni non verranno più mostrate. Punti gioco e medaglie capitano attuali nel menu versus online, le icone e punto esclamativo che appagnano in ogni negozio all'aggiunta di nuovi oggetti, le icone e punto esclamativo che appaiono nel menu versus online quando vengono completate le sfide. Sostanzialmente il gioco va a rimuovere tutte le notifiche di novità presenti nei vari menu per alleggerire i caricamenti. Quindi seguendo quello che c'è scritto in questo capoverso non avremo più le notifiche nel menu online nel caso ci fossero sfide completate in modo da alleggerire il gioco. Andiamo a verificare. I tempi di caricamento in linea di massima sono stati velocizzati, quindi questo è corretto. Però i punti esclamativi delle sfide online completate sono ancora lì. Allora, è vero che sono degli ubriachi, però sostanzialmente di cosa stiamo parlando? Di una velocizzazione del gioco all'avvio. Quando cambiate schermata il gioco è leggermente più veloce, lo vedete anche da qui. Io sto trasmettendo da PS5, il gioco è un po' più rapido. Nell'entrata e uscita dei menu. Non è che cambia chissà che cosa, ci vuole essere una patch per introdurre questi aggiornamenti, però così è e così vi riporto. Ah, non l'ho detto all'inizio, ve lo dico adesso, la patch pesa 67 MB, cioè abbiamo messo esattamente 6 secondinetti a scaricarla e ad inserirla nel gioco. Quindi già da lì potevamo capire che non dovevamo aspettarci, chissà che mirabolanti novità. Ma andiamo avanti. Allora, questo è probabilmente l'aspetto più importante di questa patch, che sta frenando dal giocare molti, molti di voi. Andiamo a leggere. Correzione, duplicazione, abilità. Un errore permetteva di impostare più copie della stessa abilità su determinati giocatori. Il problema è stato risolto e ora non è più possibile duplicare le abilità. Ve lo spiego in estrema sintesi. Quando giocate gli eventi, come vi ho fatto vedere tante volte, avete la possibilità di andare a rimuovere le tecniche dei giocatori, in modo tale da alleggerirne il costo. Questo si può fare sia sulle tecniche, tiri, blocchi, passaggi e così via, ma anche con le abilità. Per esempio, potete andare a rimuovere delle abilità che non sono funzionali al gioco del vostro personaggio e così andate ad alleggerirne ulteriormente il costo. Se però non andate a reinserire le abilità e con questo stesso personaggio che avete smutandato, create, sviluppate un'amicizia nel percorso New Hero, ecco che per errore potreste trovarvi delle abilità doppie nel set del singolo personaggio. Vi mostro un'immagine giusta per farvi capire di cosa sto parlando. È una cosa che alcuni hanno creato volontariamente, ma che altri si sono trovati semplicemente perché non erano a conoscenza di questo tipo di errore. Bene, da qui in avanti questa cosa vi limiterà nel matchmaking. Qualora doveste schierare giocatori che sono in possesso di abilità doppie, comparirà una schermata che vi indicherà che uno dei giocatori sta facendo uso di trucchi e che quindi il matchmaking è stato annullato. Qualora doveste trovare molte volte questo messaggio di errore, vi invito ad andare a controllare i giocatori titolari e panchina della squadra che avete schierato e andare a verificare che non siano presenti due abilità con lo stesso nome, altrimenti non riuscite più a giocare. Fate questa verifica nel caso doveste trovare e incappare più volte in questo errore. Bene, questa è una sistemazione. Fate tutto come sempre dal menu modifica. Entrate dentro, controllate i vostri giocatori, scorrete le abilità e sostituite o rimuovete le abilità che avete nel caso sdoppiato. Altro sono stati implementati i miglioramenti alla stabilità, che questa può sembrare una frase breve ma per me era la più importante dell'aggiornamento. Prime considerazioni. La patch ha fatto spaventare alcuni di noi proprio perché la prima voce dell'aggiornamento riguardava l'introduzione di questi fantomatici oggetti dedicati al New Hero, che adesso andiamo a vedere. Li trovate nel negozio del menu Medaglie Capitano, scorrendo gli oggetti allenamento trovate delle nuove fasce e dei nuovi tacquini. Il primo oggetto è la fascia dorata, che aumenta ulteriormente il bonus quando incrementi la barra squadra, il bonus unico tentativo per la partita. Come funziona, detto in soldoni, con la fascia d'oro equipaggiata, quando completate una partita, invece dei canonici 50 punti per il primo successo, ne otterrete 60. Parlo di punti abilità. Mentre quando andate a completare la barra del grande successo, invece che 350 punti, ne porterete a casa 4,20. Gli altri oggetti inseriti sono dei nuovi tacquini, vedete il tacquino prezioso difesa che aumenta la valutazione di 2 gradi su contrasti, intercettazioni e blocchi, dribbling e passaggi con il tacquino prezioso del centro campo e il tacquino prezioso attacco che aumenta la valutazione di tiro di 3 gradi. Poi abbiamo le versioni potenziate dei tacquini dettagliati, che aumentano i punti abilità qualora una determinata condizione ricevesse un voto maggiore di quello che è indicato nel tacquino. Quindi da lì in su otteniamo più punti abilità. Concludono la lista di nuovi ingressi i polsini dedicati al potenziamento dell'amicizia con determinate categorie e ruoli di giocatori. Quindi il polsino più per il centrocampista, il polsino più per i difensori portieri, il polsino più per gli attaccanti. Ora, molti si sono scandalizzati per due motivi. Il primo è la deriva del gioco verso i New Hero. Ma ve l'avevo detto. Se ricordate quello che vi avevo raccontato nel precedente video, avevo descritto questa componente, quella degli oggetti aggiuntivi delle microtransazioni come una fonte di guadagno per Townsoft. Pertanto era impossibile pensare che la casa di sviluppo di Capitan Zubasa Rise of the New Champions andasse a privarsi di una componente di guadagno rimuovendo i New Hero e facendo giocare solo noi che vogliamo i giocatori canolici. Non era possibile. La seconda lamentela era oh caspita con questi oggetti adesso avremo New Hero full 99 tutti rotti a destra e a sinistra. E anche io come prima reazione ho avuto questo pensiero. Devo però da un lato tranquillizzarvi perché se è vero che questi oggetti rendono un po' più semplice la vita nel bilaggio complessivo non è che cambi poi proprio così tanto dal punto di vista del totale punti abilità che potete portare a casa. Il senso di questi oggetti è quello appunto di rendere accessibili New Hero un po' più forti ai giocatori che hanno difficoltà a completare determinati task determinate missioni all'interno del percorso New Hero. Ci sono i polsini per fare amicizia più in fretta questi vengono anche comodi se dobbiamo sbloccare le abilità degli eventi per capirci ci sono i tacquini dettagliati per chi non riesce a fare i tiri con i difensori o i blocchi e i contrasti. La fascia dorata invece permette di ottimizzare i punti del grande successo magari funzionale a chi non riesce a ottenere sempre valutazioni alte. Sono oggetti abbastanza situazionali perché riguardano o dei giocatori che hanno delle difficoltà nell'ottenere un certo tipo di valutazioni oppure per chi vuole ottimizzare la partita da un tempo come può essere all'allenamento con la squadra delle medie o contro la Germania. Però vanno in sostituzione di uno dei tre oggetti che già utilizziamo all'interno del percorso New Hero. Gli oggetti a disposizione restano e rimangono tre. Il mio consiglio è quello di diventare bravi e ottenere valutazioni alte e continuare a utilizzare le fasce impietuose normali le fasce impietuose più insieme ad un tacquino dettagliato in modo tale da ottenere il maggior numero di punti abilità. Con gli oggetti nuovi di cui vi ho parlato non vi cambia troppo la vita. Fate meno fatica ma non è detto che otteniate più punti abilità. Questa introduzione io la leggo come uno dei primi passi verso i giocatori nuovi. Chi entra oggi in Rise of the New Champions e vuole creare un New Hero si troverà sempre svantaggiato rispetto a chi ha già New Hero datati o creati in precedenza magari con i bonus scuole. E qui con qualche oggetto in più potrebbe avere meno difficoltà a ottenere valutazioni alte e non percepire quel senso di frustrazione dato dal ottenere New Hero con tutti i 80 e trovarselo inutilizzabile. Quindi facilitazione sì ma questo non corrisponde a un New Hero sgravato nei valori. Fate meno fatica ma chi è pratico e bravo nell'ottenere valutazioni alte a prescindere da questi oggetti avrà comunque New Hero più forti anche se con un gap inferiore. Bene questo era l'aggiornamento per quanto riguarda gli oggetti. Il secondo aggiornamento erano i punti esclamativi il terzo aggiornamento era la rimozione dell'abilità. E per quanto riguarda la stabilità? Ora sulla stabilità purtroppo io vi devo dire che ho vissuto alcuni momenti contrastanti. Ora durante la live che abbiamo trasmesso l'altra notte alle 3 del mattino una prima partita giocata contro Mela pronti via mi aveva dato delle sensazioni più che positive avevo visto un netcode leggero una velocità di caricamento migliorata scontri che entravano insomma tutto bene. Questo mi faceva pensare che al di là delle 4 correzioni in croce di cui abbiamo parlato fino adesso il vero nocciolo di questi miglioramenti fosse un alleggerimento e un primo passo verso quel famoso netcode più light che ci aveva promesso Tamsoft ad agosto. Dopo due giorni di prove però vi devo sottolineare che non abbiamo fatto miglioramenti da questo punto di vista anzi ho notato come per la 1.32 un leggero senso di sporcizia ancora una volta nel netcode e un aumento di alcune situazioni strane che pensavo di essermi francamente levato dai piedi. Pronti via infatti nella stessa partita con Mela che mi aveva dato sensazioni positive è entrato un tiro miracoloso bypassando il portiere e durante l'evento Clivort che sto giocando in queste ore più di una volta mi è capitato di bypassare il portiere con dei cross oppure con un tiro ribattuto di una rovesciata tutte cose che con la 1.31 pensavo di essermi lasciato alle spalle ora tanti di voi sono arrabbiati per questo aggiornamento che non ha mantenuto le promesse fatte da Suzuki e ci lascia un gioco persino leggermente più sporco e quindi adesso cosa si fa? Davanti a noi abbiamo tre scelte la prima è quella di incazzarci e giocare ad altro cosa che molti di noi stanno facendo parallelamente a Tsubasa o proprio abbandonando Tsubasa continuare a giocare sacramentando imprecando bestemmiando però portando avanti e tenendosi in pari con tutto quanto c'è l'evento Clivort avremo modo in un altro video di spiegare come funziona Showtime magari vi preparo un piccolo approfondimento per fine settimana però teniamoci in pari giochiamo stringiamo i denti in qualche modo si fa la terza cosa che possiamo fare è segnalare in massa le anomalie all'assistenza Bandai in modo tale che Tsuzuki Tamsoth e tutta la compagnia cantante si rendano conto che andando avanti così stanno facendo del male a un gioco che fino ad agosto avevano un pochettino sistemato quindi in descrizione vi lascio il link dell'assistenza Bandai segnalate in massa i problemi di Rise of New Champions in quanto consumatori e acquirenti del gioco ne avete diritto in maniera civile mi raccomando non mandate cose fuori di testa o pieni di rabbia o di astio verso i poveri ragazzi dell'assistenza che non hanno colpe ma mandate tramite loro fate arrivare tramite loro a Tamsoft le vostre segnalazioni delle cose che non vanno scrivete pestate lì sotto in maniera civile ed educata mi raccomando facciamoci sentire e vedrete che come le ultime volte facendoci sentire in massa le cose sono andate sistemandosi eh ma come Andre tu continui a dire le cose andranno sistemandosi ormai da un anno ma quell'uomo lì dietro di te quando sistemerà il gioco? eh quando sistemerà il gioco? questa è un'attiva domanda se mi conoscete però sapete che non posso esimermi da fare di nuovo un calcolo una stimazza a naso di quando potrebbe essere la data della patch promessa da Tamsoft ah non l'avevate capito? non è mica questa la patch che ci ha promesso Tamsoft so cosa state pensando sembra che sto di nuovo ciurlando nel manico e cazzeggiando ma ragazzi è palese non è questa la patch di agosto quella che ci hanno promessa nel video non ci sono tutti i contenuti di cui hanno parlato nella famosa lettera di Tamsoft quindi fermiamoci prima di incazzarci totalmente ragioniamo e proviamo a raccogliere le informazioni a nostra mano ve l'avevo accennato nel precedente video quello dove fantasticavo su Tsubasa 2.0 tramite Steam guardando nel log degli aggiornamenti di Steam noi abbiamo già visto che sono presenti dei file di cui non conosciamo l'entità nel peso ma che rappresentano i file di precaricamento e di aggiornamento per i beta tester su Steam prima del rilascio della 1.33 erano presenti due file un QA Release 1 e un QA Release 2 dopo l'aggiornamento 1.33 il QA Release 2 è scivolato tra i contenuti rilasciati quindi non è più disponibile per i beta tester nelle scorse ore però è stato aggiornato il QA Release 1 quindi c'è ancora un pezzo di aggiornamento che è lì da settimane mesi sotto fase di testing e che ancora non è stato reso disponibile rifacciamo allora lo stesso esercizio che avevamo fatto per la 1.33 ricordate no? avevamo preso la scaletta degli annunci dei rilasci delle varie patch dal primo trailer fino all'ultima 1.32 per capire la cadenza degli aggiornamenti di Townsend se vogliamo essere positivi ed ottimisti dobbiamo pensare che la patch promessa da Suzuki e che possa essere rappresentata da questo fantomatico Q&A Release numero 1 possa arrivare analogamente a quanto fatto dal precedente blocco di aggiornamenti arrivati fra dicembre e gennaio andiamo a ripercorrere con un po' di storia se ricordate il 3 dicembre 2020 arrivò la patch 1.10 la prima che introdusse i DLC di Levin Bunnak ed Espadas quando tutti noi pensavamo che il grosso fosse fatto ecco che il 4 gennaio 2021 un mese dopo da questa patch esce la 1.10.1 che sembra portare una prima risoluzione al problema dell'analyze la prima patch di peso che comincia a dare una sferzata al gioco è la 1.11 rilasciata il 20 gennaio 2021 quindi non voglio di nuovo cavalcare false illusioni ma abbiamo un Q&A Release da approvare da finire di testare e uno storico di Timesoft che nonostante la patch rilasciata a dicembre rilasciò due contenuti nuovi fra l'inizio di gennaio e la fine di gennaio 2021 per cui io rimango fiducioso e ottimista che di nuovo possano arrivare aggiornamenti e miglioramenti per la fine del mese di gennaio 2022 per questo io vi dico che la vostra parola è molto importante e che dovete pigiare sul link dell'assistenza bandai qua sotto nonostante la patch 1.10 che riguardava una serie di miglioramenti già programmati e il rilascio di DLC fu proprio la nostra voce a portare la 1.10.1 che provò a dare una prima soluzione al problema dell'analyze ci hanno messo una vita a farlo? sì l'hanno poi fatto? certo per questo vi dico ragazzi fatevi sentire è l'unico modo che abbiamo per poter arrivare a risolvere i problemi molti di voi mi diranno non ho voglia di aspettare e getteranno la spugna ma quello che vi posso dire è ragazzi fondamentalmente il gioco è lo stesso che avevamo 15 giorni fa non cambia niente se è per voi così intollerabile ingestibile insopportabile il netcode l'approccio con il gioco se anche le partite con la community non vi bastano più non so cosa consigliarvi mettete da parte il disco e tornate a giocare una volta che la situazione sarà migliorata se invece comunque come me continuate a divertirvi nonostante i problemi che il gioco indubbiamente ha e che non sto provando a nascondere ma che vi sto spiegando anche in questo video tenete sempre vicino alla vostra console il disco di Rise anche per giocare con la community e per continuare a divertirvi nonostante le imperfezioni del sistema che tiene in piedi tutto il gameplay la recensione della patch ragazzi non può che essere quindi insufficiente in attesa però di un aggiornamento questo benedetto QE release 1 in rampa di lancio pronto ad arrivare che noi saremo qui pronti ad accogliere a braccia aperte e a raccontarvi fin dalla tarda notte l'attesa della patch di Rise però non ci impedisce di continuare a produrre contenuti se state seguendo attivamente il canale sapete che c'è la Nazlock di Pokemon con dei risultati francamente tragici e dei caduti ovunque nella mia squadra stiamo giocando Capitan Tsubasa Rivals cioè la serie di big match tra i nostri top player che comunque continua nonostante Tsutsuki mentre venerdì sera avremo la Tsubasa Golden Knight la celebrazione del pallone d'oro che raccoglierà i risultati del sondaggio che voi stessi avete compilato nelle scorse settimane bene ragazzi quindi per il momento questo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale spazio commenti come sempre a vostra disposizione per raccontare la vostra esperienza lasciare il vostro feedback come sapete cerco di rispondere a tutti quanti ci vediamo live su Twitch e come sempre oggi come non mai viva Tsubasa ma anche Tsutsuki suonare il vostro suonare il vostro c'è un'altra suonare il vostro c'è un'altra